Pronti a tutto, organizzati e violenti, i colpi in Lombardia ed Emilia Romagna, ma la base logistica era in Veneto, tra Padova, Treviso e Vicenza. Sette pregiudicati di etnia assinti, responsabili di 30 assalti ai Bancomat, sono stati arrestati dai carabinieri di Verona. I colpi sono stati commessi dal 2017 al 2020. L'assalto più violento nel febbraio del 2020, poco prima che scoppiasse la pandemia, quando a Legnano i malviventi spararono alcuni colpi di Kalashnikov contro i carabinieri intervenuti durante un servizio di perlustrazione. Quattro arrestati vivevano tra Vedelago, Asolo e Montebelluna, un quinto a Piombino Dese nell'Alta Padovana. La banda utilizzava auto rubate con targhe contraffatte per i sopralluoghi. Durante i colpi alcuni si dedicavano a posizionare l'esplosivo, mentre gli altri presidiavano l'area armati di pistola. Una delle auto rubate utilizzate dalla banda è stata ritrovata in un garage a Rubano nel Padovano, mentre in un casolare abbandonato a Montegalda nel Vicentino costudivano le armi. Si stima che la banda sia riuscita a rubare oltre un milione e mezzo di euro. Due banditi sono stati arrestati lo scorso settembre a Montegalda, mentre i complici si sono dati alla fuga. Le indagini si sono concluse con lo smantellamento della banda, a cui vengono contestati 45 capi di imputazione, dalla rapina al tentato omicidio fino all'associazione a delinquere.